Musica Wey, bella a tutti ragazzi e benvenuti al mio classico video di reaction al pass battaglia della season 3 di Fortnite Io sono Xyuder e andiamo subito, andiamo subito ragazzi a dare un'occhiata a che ci dobbiamo aspettare Pass battaglia, season 3, livello 1, Oceania, livello 2, Fade, due skin leggendarie, livello, no scusatemi, livello 2 Entrata supereroica, un emoto, andiamo a livello 3 per il nuoto aereo, una copertura, livello 4 abbiamo dei V-Bucks Tornano i V-Bucks nel pass battaglia, o c'erano anche prima, non me lo ricordo, Brello, deltaplano di livello 5 Livello 6 abbiamo Topo da spiaggia, un backpack per passare a Onda Oceanica, una copertura animata Livello 8 abbiamo lo squalo da corsa, un background musicale, livello 9, oltre le onde, bellissima La schermata di caricamento, si arriva al 10, bonus, assegnabile a due mani o come doppia arma Non so che cosa voglia dire, non capisco, però si chiama Asce della Marea Livello 11 lo standardo del Delfino, al 12 V-Bucks e al 13 abbiamo Orientamento, un adesivo con la bussola Al 14 invece Vela Maestra, deltaplano molto molto brutto Livello 15, potenziamento punta, allora ci sono da quanto ho capito le personalizzazioni per l'ombrello ragazzi E qua stiamo notando che il nostro ombrello potrà essere personalizzato sulla punta Al 16 un'altra schermata di caricamento, bella, bella, bella E al 17 il primo spray ragazzi, il casco di Jonesy Gratis, al 18 per chi non lo ha preso, corrente marina, un'altra copertura gratuita Si passa al 20 direttamente ed arriva Jonesy Saab Ed eccolo qua ragazzi, armato di mitraglietta per andare al 21 Ok questo è per Kulion, easy, è per Kulion, è per Kulion Per chi dice Kulion che Kulion è uno dei miei set Squalo marino, adesivo del 22 e al 23 backpack acque profonde Un po' preso dalle skin dei sommozzatori Livello 24 cascate, come scia E al 25 abbiamo lo standard della maschera Si passa al 27 dove ali acquatiche la fa da padrone come nuovo deltaplano Al 28 uno spray con il pesce martello, sorridente Al 29, minchia si guidano le macchine raga Si guidano le macchine al 29 e al 30 abbiamo lame eterne Un altro bonus, doppio gioco, assegnabile a due mani o come doppia arma A livello 31 schermo standardo e al 33 abbiamo un emote Che fa vedere un quadrato così Livello 34 lo spray del mini miascolo che surfa o del miascolo normale Livello 35 l'asta potenziabile per il nostro ombrello Come detto sono 8 stili, questo è il secondo Si va avanti, vediamo solamente il terzo e poi proseguiamo Vediamo lo stage 3 Tanta roba col cannocchiale Livello 36 convergenza Non ho idea di che cavolo sia convergenza È un deltaplano, è un deltaplano, ok Livello 37 l'emoticon della fioritura Livello 38 i coltelli da sub Uh, molto belli Livello 40 arriva finalmente Jules, l'abbiamo vista tantissimo ragazzi Tre stili per lei Come vedete ce ne sono tre Andiamo a vedere anche il terzo Siamo quasi a metà del pass battaglia Livello 41 anche uno spray dedicato a lei Livello 42 stanga di home Che è praticamente un backpack con il gufo meccanico Livello 43 l'abbiamo già visto Livello 44 fatti riparare una schermata di caricamento Livello 45 efficiente Nuova copertura animata Livello 46 bellissime le chiavi inglesi Anche qua con il bonus dove si può utilizzare sia doppia che single Livello 48 un background Musicale teste rotte Molto carino Livello 49 invece il deltaplano Home Quindi penso che faccia tutto parte del set di Jules Livello 50 ragazzi Viaggiatore un'opzione stilistica per fade Siamo a metà del pass Al 50 Come vi sembra fino adesso il pass? Scrivetemelo sotto nei commenti Dai raga Come vi sembra il pass? Livello 51 Nuovamente schermata di caricamento Al 52 arriva l'adesivo vendetta di home Al 54 abbiamo in punta di piedi il nuovo balletto Al 55 invece si potenzia il telone dell'ombrello ragazzi Anche qua invece 10 i potenziamenti disponibili Ne vediamo solamente un paio Poi li potrete controllare voi tranquillamente Molto carino Livello 56 lo standardo che è la maschera di Jules Livello 57 invece lo spray del pesce Livello 58 borgo galleggiante La nuova location Livello 60 abbiamo la skin kit Quindi un piccolo miascolo con opzioni stilistiche Che guida una specie di monociclo sopra un robot Livello 61 ragazzi pesce volante come deltaplano Livello 62 le moti con nuvola gatto Al 63 invece arriva la fioritura senza fine Un dorso decorativo Si parla tanto di fiori in questo pass battaglia Livello 64 fenomeno felino Anche qua molto carina come copertura Livello 66 la scia fotone Molto 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 bella Livello 67 Cos'è? Cosa fa? Carina carina Un emote che suona un piano immaginario Lo standardo a livello 68 Livello 69 Una nuova schermata di caricamento Con i pattini molto molto retro Ed a livello 70 Gli artigli potenti Lame rotanti Con tanti stili 6 per l'esattezza Anche questi utilizzabili come Normalmente o doppia arma Livello 71 Una copertura molto carina Sia molto carina Sionica E a livello 73 Il vagabondo delle stelle ragazzi Un deltaplano Al 74 troviamo invece Oltre lo 0 Nuova schermata di caricamento E al 75 La customizzazione Del cappuccio In basso Dell'ombrello Credo che sia Non ne ho assolutamente idea Vediamo il terzo stile Credo che sia la base Sì la parte sotto Molto carina Al 76 invece Il povero Fade Viene già cornificato Dalla sua signora E al 77 La mini luna Come backpack Arriviamo fino al 78 Dove lo standardo Di quello che possa essere Credo la luna Non ne ho assolutamente idea E a livello 80 Proprio Arriva la skin Siona Molto carina Col piercing al naso No Senza piercing al naso Siamo nella penultima Fase delle schermate Livello 81 Uno turista addirittura Quindi una Specie di associazione Nel fondale marino Con lo spazio Staremo a capire Qualcosa più avanti Livello 82 Percussori Vision Anche qua 6 stili personalizzabili E all 83 L'adesivo Affettatrici Cavallereschi Arriviamo all 84 Dove si fa Un altro riferimento Allo spazio Ragazzi Così Livello 85 Elmo da cavaliere Come sappiamo Ci sarà Il cavaliere nero Femmina Ragazzi L'abbiamo visto Nel trailer Livello 87 Volo del cavaliere Ci può stare Livello 88 Onore Una schermata Di caricamento E ci dice anche L'autore Questo Fa parte Del contest Che fecero Qualche mese fa Per chi creava I migliori I migliori disegni Livello 89 Billy Liston Ragazzi Il background Di Billy Rimbalzello Molto carino E a livello 90 Invece Cometta Cadente Un deltaplano Davvero molto Molto particolare Arriviamo signori All'ultima fase Non l'ho vista Neanche io La vediamo insieme Non voglio guardare La schina L'ho vista L'ho vista Cazzuola Livello 91 Lame intrepide Bella Bella Sia singola Che doppia Livello 92 Sigillo rosso Copertura animata Al 94 Tempestoso La nuvola di fantazzi What A livello 95 A livello 95 Invece Abbiamo L'ultimo potenziamento Dell'ombrello Il colore Della scia Che rilascia L'ombrello Come vedete Rossa E poi ce ne saranno Tanti altri Livello 96 Corvo Di spade Un deltaplano Metallico Meccanico Molto molto figo Livello 97 Lo standard Invece Del Quello che possa essere Un falco Barra una fenice Non ne ho idea Scudo eterno A livello 98 A livello 100 2 skin ragazzi Il cavaliere eterno Eccolo qua Davvero Molto Molto carino Fatemelo un attimo Rivedere il cavaliere eterno In realtà Devo farci la schermata Per la copertina Tanta roba E a livello 100 ragazzi Mascherato Wow 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 Insomma ragazzi Come vi sembra Questo pass battaglia Come vi sembra Questa season Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Io vi ringrazio Per aver guardato Questo video Ricordo a tutti Voi che mi state guardando Su Twitch Che non me ne vado Mando solamente L'outro del video Mi trovate proprio adesso In live su Twitch A giocare insieme La season 3 Ciao In realtà ci sono 19 secondi Prima di arrivare a 10 minuti Quindi ragazzi Lo sapete Che mi serve un attimo Devo prendere tempo Devo prendere tempo Datemi ancora Un pochettino Sto rimanendo Ovviamente sto rimanendo Non è facile Perché uno Uno prende per il sedere Magari Hai capito Non mette niente Io almeno vi dico E sono onesto Ma io sono onesto 10-01 0-2 E 0-3 Grazie a tutti Grazie a tutti